Vitrine Media presenta il Track Transformer, un'innovazione semplice e intelligente che consente a tutti di installare una colonna di display a LED o Light & Play via cavo. Per le vostre vetrine già dotate di guide Eutrack da soffitto, questo prodotto è stato creato per consentire un'integrazione semplice ed economica della tecnologia Vitrine Media. Per consentire l'installazione compatibile con i vostri accessori, Track Transformer si integra perfettamente con il design e il colore delle vostre guide. È stato progettato per essere installato da tutti, senza la necessità dell'intervento di un installatore. Tranne che per il taglio di due cavi alla fine dell'installazione non sono necessari attrezzi. Venduto con un alimentatore da 75 Watt, un livello e un paio di cavi e dispositivi di fissaggio, il Track Transformer è così facile da installare che il gioco è fatto in due semplici passaggi. È possibile appendere fino a 10 chili ed è compatibile con tutta la nostra gamma di display LED VM-1 e VM-C da A4 a A1, così come con i nostri schermi LCD Light & Play. Non è mai stato così facile usare i prodotti Vitrine Media per rendere le vetrine dei vostri negozi davvero eccezionali.